Ok, ok, dicono adesso perfetto Allora ragazzi ci siamo, oggi appunto abbiamo questa live in collaborazione con Seaving come vi dicevo e vi insegneremo a fare dei curriculum e vi insegneremo ad affrontare quella che è la vita lavorativa, i colloqui, come vestirsi, come porsi, diverse cose Io oggi ho qua con me Alessandro Loggi che è il cofondatore di Seaving, intanto chiamiamo Alessandro e Giulia Petrossians, poi ve li presenterò appena, eccoli, ciao Giulia, ciao Alessandro Ciao a tutti, ciao Ciao ragazzi, allora intanto passo alle presentazioni, vi dicevo abbiamo qui Alessandro Loggi che è il cofondatore di Seaving e praticamente ha creato tipo i colloqui on demand, le fiere digitali del lavoro Ancora prima che ci fosse la pandemia, quindi in realtà si è mosso direttamente prima dell'emergenza che poi c'è stata e questo direi assolutamente positivo, visto quello che poi è successo, si sperava insomma che non ci fosse la necessità, però bene così E poi abbiamo appunto Giulia qui con noi che è la product manager invece degli eventi digitali di tutto il lavoro di Seaving, ben arrivati Grazie, grazie mille Sara Ciao ragazzi, ciao a tutti Ciao ragazzi, allora dicevo Alessandro, facevo la tua introduzione, sarebbe stato bello che effettivamente non ci fosse stato bisogno dei colloqui on demand, però sei partito praticamente in anticipo Sì, allora noi certamente non ne avevamo bisogno, anzi avendo innovato su tutto questo ancora prima eravamo ben contenti di come dire anticipare un trend che pian piano sarebbe arrivato comunque Anzi, i risultati hanno parlato positivamente verso le nostre innovazioni fin da subito, fin dal 2000, ecco diciamo siamo nati nel 2017 e siamo andati un po' sul mercato live ecco nel 2018 e nel 2018 con i video on demand E poi li vediamo i video colloqui in demand Esatto, poi vedremo tutto, intanto vi diamo un background, vi spieghiamo un attimino quello che fanno Alessandro e Giulia e quello che è la piattaforma Seaving, giusto per capire ecco quello che è il fulcro dell'argomento di oggi Anche se bene o male l'avete capito, è quello appunto dei curriculum, della presentazione dei colloqui e di come imparare a gestirsi in un ambiente simile in base proprio al tipo di lavoro che si va a ricercare, giusto? Sì assolutamente, cambiano le aspettative delle aziende e cambiano le informazioni che si vogliono chiedere alle persone Poi ci si aspetta che ovviamente un ingegnere, una persona che deve svolgere un lavoro tecnico possa essere più timido E quindi ovviamente vengono davanti altre informazioni che diventano più importanti Parliamo di solito di hard skill e di soft skill The hard skill è un po' cosa sai fare e soft skill è un po' la tua attitudine e propensione a un lavoro Il carisma anche, si può dire soft skill Assolutamente e se dobbiamo cercare e selezionare un venditore è logico che l'aspettativa è quella che la persona sia come si dice nel gioco comune spigliata Quindi un video può spiegarlo molto più di un CV che talvolta riporta delle informazioni Ma se poi uno è capace di vendere lo capisci tra l'altro nella vita quotidiana Vero, molto vero perché effettivamente una persona può scriverti nel curriculum di avere mille capacità Ad esempio come dicevi te le hard skill nell'ambito magari che ne so anche di conoscenze computer Poi magari deve vendere effettivamente dei prodotti e vedi che non riesce effettivamente a venderli bene Viene da sé che comunque è molto importante anche la soft skill Mi piace questa cosa, hard skill e soft skill? Sì, sì, aiuta molto a distinguere in modo meccanico quasi Esatto, sì sì, dalle capacità effettivamente tecniche che una persona può avere A tutto quello che è socialità, si può dire carisma, presenza Non so se anche la presenza può essere considerata una soft skill, dipende forse dal tipo di lavoro Per esempio te, Sara, sicuramente tra le hard skill hai quelle conoscenze del digitale Dei canali su cui lavori e delle sue funzionalità Le soft skill sono innate, ovviamente La soft skill è la parlantina, go-go La parlantina, l'improvvisazione, la simpatia perché saresti presente La budestia, no? No, la budestia è parte E poi saresti presente su questo canale ma non avresti seguito Qualora, insomma, avessi semplicemente fatto un account e studiato le funzionalità Non sarebbe sufficiente Vero, vero, perché servono comunque le capacità tecniche Ma, come dicevi tu, le soft skill sono assolutamente importanti E adesso vi faccio una domanda che non c'entra con il discorso Ma forse in realtà un po' sì Secondo voi le soft skill sono spesso più importanti delle hard skill nella scelta effettivamente di un candidato? Lascio parlare Giulia che l'esperienza di selezione ne ha molte più di me Ok, sì Allora, sì sì, assolutamente Sara Cioè, vabbè, io ho fatto selezioni in tanti ambiti Quindi da settori che vanno più tecnici a settori meno tecnici, diciamo così Però tante volte quando ti trovi davanti a un candidato è più l'energia che questo candidato ti va a comunicare Che la parte tecnica Ovviamente dipende un po' anche dalle seniority dei candidati Cioè, se ti stai approcciando magari per la prima volta ad un lavoro È ovvio che vai a valutare più il lato soft del candidato Quindi, non lo so, penso magari a un lavoro di sales che può essere in vari ambiti Quindi l'addetto vendita, il sales in un'azienda come la nostra Quindi vendita in senso lato Io magari vado più a valutare quanto la persona sia spigliata, sveglia, energica Quanto anche non sia timida Perché chiaramente se devi parlare col pubblico, devi fare delle telefonate Ovviamente non ti deve spaventare il telefono Non ti deve spaventare la persona che ti fa la domanda quindi non sai rispondere Quindi tendenzialmente valuti molto il lato soft Quando parli con figure, magari con un pochino più di seniority Chiaramente capita che vai a fare un colloquio Ti facciano anche un colloquio tecnico, chiaramente Perché poi se io vado a investire su una persona che deve avere una determinata seniority Ovviamente devo anche portarmi a casa una figura che Passami il termine, mi tolga dei problemi Certo, si deve fare quello per cui è pagata obiettivamente Esatto, esattamente sì Però ogni azienda valuta anche un po' il lato soft Perché non è detto che lo stesso lavoro che io faccio in una determinata azienda Lo possa fare nello stesso modo in un'altra Perché magari ho colleghi molto diversi O mi confronto con diversi tipi di manager Quindi chiaramente il lato soft è sempre una cosa che gli HR valutano E ti ripeto, a qualsiasi livello di seniority Figure junior chiaramente un pochino di più Quindi io magari Sara ti chiedo Rispetto anche al tuo background Insomma quello che hai fatto anche prima di fare il lavoro che stai facendo adesso Ti è mai capitato di sentirti valutata per lato soft Visto che adesso abbiamo parlato di questo? Assolutamente sì Ma io in realtà penso di essere stata sempre assunta più per il lato soft Che per il lato effettivamente hard skill C'è da dire che ho fatto molti lavori Alcuni addirittura molto diversi Perché vabbè ho fatto la barista, la cameriera E lì è sicuramente soft skill Perché devi saper parlare comunque con il pubblico Avere una certa attitudine Però d'altro canto penso che cameriere Lo possano fare un po' tutti dal punto di vista dell'hard skill Insomma una volta che impari effettivamente come si apparecchia Si portano i piatti Può fare chiunque Però mi è capitato anche di farla segretaria in uno studio legale E lì invece ovviamente mi serviva più l'hard skill Perché i miei studi in giurisprudenza mi hanno poi portato a poter aiutare effettivamente in studio Per quanto riguardava le pratiche legali Però anche lì sono abbastanza convinta di essere stata scelta magari più per le soft skill Perché mi sono presentata magari sai in modo un po' più sbarazzino Io ho sempre avuto parlantina Quindi difficile che ci fossero domande che mi intimorissero E questo sicuramente mi ha portato poi a essere effettivamente assunta quasi sempre Quando andavo a portare un curriculum in un'azienda Quindi io reputo le soft skill molto importanti Proprio perché come dicevate anche voi prima Il modo in cui ti poni fa grossissima differenza Cioè secondo me spesso e volentieri Magari un candidato viene scelto rispetto ad un altro Anche proprio per il modo in cui si pone Piuttosto che sulle effettive conoscenze Perché poi lavorando in un'azienda Secondo me le conoscenze le sviluppi anche Il lavoro lo puoi imparare Mentre le soft skill sono qualcosa che Puoi effettivamente migliorare nella tua persona Però alcune cose o ce le hai o non ce le hai secondo me No no assolutamente Poi ti ripeto Noi vogliamo fare poi queste live un pochino Ovviamente perché ci interessa Spiegare come si fanno i CV Perché chiaramente il recruiter è la prima cosa che vede di te Quindi tu non sei ancora arrivato davanti alla persona Che ti dovrà valutare Quindi chiaramente fare un CV fatto a modo Poi ovviamente declinato nella varie posizioni A cui tu ti vuoi candidare Questo dipende Però ti permette magari di arrivare a quello step Dove ti metti in gioco Vedevo una domanda di Luca Che ci diceva Vengo visto male se mi presento con i capelli blu ad un colloquio Allora innanzitutto al colloquio ci dobbiamo arrivare Quindi dobbiamo fare un CV fatto bene Per la posizione per cui ci stiamo candidando Quando arrivo a colloquio Anche qui dipende Per che posizioni chiaramente ti stai candidando Però tendenzialmente Ad oggi sono valutate un po' meno Queste cose sono valutate un pochino di più Gli atteggiamenti La propositività Cioè tu vuoi fare un colloquio in un'azienda Puoi avere i capelli blu Però se poi non sai Chi è la persona che stai incontrando Chi è l'azienda Non ti sei fatto un po' di cultura aziendale Non sai cosa fanno Esatto Non sai cosa fanno Puoi avere i capelli di qualsiasi colore Ma stai pur certo Che il recruiter Non ti valuterà Come una persona Che invece si è presentata Informata Studiata la storia dell'azienda Ha letto anche bene La posizione per cui ti stai candidando Perché magari tante volte Ti capita anche di Andare ad un colloquio Cioè fare un colloquio Mi è capitato mille volte Non sapere qual è la posizione Effettivamente Diregli Ah sì cerco lavoro Eh ma cosa vuoi fare Esatto Eh quello che proponete Esatto Eh sì sì brava E anche quello che poi Un conto è Dico vabbè Vado a portare un CV In un'agenzia Ovviamente Lì ti candidi Per una cosa più generica Però se tu vai davanti all'HR E non mi sai dire Chi è Siving E non mi sai dire Per che posizioni Ti sei candidato Per me i capelli Ce li puoi avere Di qualsiasi tipo di colore Ma per Non ti valuterò Come una persona Che ovviamente viene preparata Quindi al di là Dell'aspetto fisico Che io lascio sempre Un po' da parte Perché Per fortuna Gli anni sono passati E non sono più Questi metri di valutazione Che chiaramente Vengono tenuti in considerazione Poi Non facciamo di tutta l'erba Un fascio Esatto Esattamente Sì scusami dimmi Alessandro Poi tra poco Possiamo anche chiedere A dei colleghi Che arriveranno Certo E come funzionano Questi meccanismi Nella loro azienda Certo Più tardi andiamo proprio A chiedere nello specifico A vedere nello specifico In alcune aziende Anche importanti Come funziona tutto questo Io intanto vorrei fare una domanda Al pubblico Ovvero chiedervi ragazzi Avete mai scritto un curriculum E Chiedo a Gabri Faccio fare Faccio io Faccio fare i miei mod Fai tu Per le risposte Ok Allora chiedo ai mod Per cortesia Se mi date una manina A far partire la pool Quindi un sondaggio Hai mai scritto un cv No Le risposte No Che cos'è No Ma lo farò presto Sì Ma l'ho fatto a caso Sì il mio cv è bellissimo Grazie mille Grazie Vedo anche che qualcuno Aveva già scritto Che lui ha un cv O lui Una lei Mi sono persa nella chat Ha un cv bellissimo E gli dicono sempre Sì Beh sì Se ci si investe Io ho investito tanto tempo Per fare i miei cv Nel corso degli anni Chiaramente Quindi se ci investi tempo Assolutamente Puoi avere un cv bellissimo E sicuramente I recruiter Ti valuteranno Anche Anche su questo Magari Intanto che rispondono Vogliamo presentare il cv Sì Sì assolutamente Intanto vi facciamo vedere Quello che Allora intanto vi facciamo vedere Questo cv Poi entriamo nel merito Del Di quello che va fatto Non va fatto Allora Qui abbiamo con noi Elon Musk Questo A me fa strarire Che vuole lavorare per seaving Ovviamente Esatto Che vuole lavorare per seaving Abbiamo qui Tra noi Elon Musk E quello che potete vedere È il classico formato europeo Che si utilizza Dall'alba dei tempi E si utilizza ancora Ma non andrebbe utilizzato E adesso Giulia e Alessandro Ci spiegheranno Perché Non andrebbe utilizzato Esatto Allora qua troviamo appunto Il classico formato Europass Che spero ormai Nessuno di voi Insomma non usi più Anche perché Europass ha fatto un piccolo upgrade Negli ultimi mesi Quindi in realtà I più giovani Quelli che stanno iniziando Magari a fare un CV adesso Magari questo Non lo vedono Speriamo di essere passati In ogni caso Volevamo dare l'idea Di Passatemi il termine Il CV brutto Ok Quindi questo è il CV Da non fare Assolutamente Perché è un CV passato di moda È un CV antico Esatto Guarda che c'è Anna Caim in chat Che dice Finalmente qualcuno Che lo dice Che fa schifo Lei è una graphic design Quindi designer Giustamente Assolutamente Quindi questo diciamo È il CV brutto Vi faccio magari Un po' una panoramica Poi sarà tu Interveni magari Anche se hai qualche esperienza Rispetto a quello che Assolutamente Io era quello che usavo Fino a dieci anni fa L'ultimo CV Che effettivamente Ho mandato È stato circa Sì nove anni fa Per un'azienda Dove poi sono stata assunta E poi non ho più Per fortuna Avuto necessità Di mandare CV Però effettivamente L'ultimo che ho fatto Nove anni fa Era del formato europeo Adesso non lo farei più così Perché Beh dai È un po' passato di moda Sì sì No ma anche io Il primo CV L'ho fatto in Europass Perché quando Dieci anni fa Andavi su Google E scrivi fare il CV Ti veniva fuori Il formato Europass Quindi lo facevi Però sì Diciamo che È poco Cioè Ti dà l'idea Di una persona appunto Che non sa effettivamente Quello che sta facendo Perché va a prendere Il modello E lo copia In colla Sì 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 No è assolutamente Questo il punto Dove volevo arrivare Cioè Dirò una frase Molto vecchia Però cercare un lavoro È un lavoro Quindi chiaramente Quando Ci troviamo davanti Alla possibilità Di proporci Per delle opportunità Lavorative Ci dobbiamo chiaramente Investire del tempo Perché Perché Le aziende Sono sempre più preparate Chiaramente ci sono Tanti candidati Che si propongono Poi dipende chiaramente Un pochino Dalla posizione In ogni caso Ci sono delle piccole Regole da seguire Quando Quando si fa un CV Che sono quello di La prima regola è Personalizzarla al massimo Quindi investirci del tempo Stare molto attenti Anche alle date Che si inseriscono All'interno del CV Quindi seguire Un filo temporale Dove io vado Prima a raccontare Le esperienze precedenti Quindi la parte di istruzione E poi vado a raccontare Le esperienze Che insomma Si susseguono Quindi diciamo Che leggendo il CV Io partendo da sopra Devo vedere prima L'ultima esperienza Quindi quello Che sto facendo ad oggi Quindi l'ultima data Il 2021 E poi andando giù Devo vedere Devo vedere il resto Certo Le informazioni più importanti Ovviamente devono essere Bene in evidenza Infatti dopo andremo a vedere I vari curriculum Per capire anche Dove sono gli errori Cosa potete migliorare E come farne uno Che effettivamente Possa essere accattivante Intanto vedo Che il sondaggio È finito E sì Il 56% Della chat Ha già fatto un curriculum Il 23% L'ha fatto Ma l'ha fatto a caso Il 18% Non l'ha mai fatto Lo farà presto E un 3% Non sa che cos'è un CV Ok Giustamente Beh perché effettivamente Diamo per scondato Che tutti sappiano Che cos'è Ma di base ragazzi È una raccolta Delle vostre informazioni Che voi presentate A un'azienda Quando volete essere assunti Detto proprio In parole Povere Cioè voi dovete raccontare Di base La vostra vita Non la vostra vita Ciao sono nato Qui e faccio Cioè dovete raccontare In generale Quello che siete Quelle che sono Le vostre capacità Quelle che sono Le vostre attitudini Magari Metterci anche Qualcosina Della vostra personalità Ma senza essere Troppo Blogger Quindi appunto Dopo vedremo Anche dei curriculum Che effettivamente Non andrebbero fatti così Però Aggiungere Quelle che sono Le vostre capacità Le vostre soft skill Come diceva prima Alessandro In modo da Racchiudere Quello che voi siete Ad un'azienda In modo che un'azienda Lo possa leggere E dire ok Quindi questa persona Sa fare questo Questo e questo Ha questo tipo di capacità E la foto Raga Soprattutto la foto C'è gente ancora Che fa il curriculum Non mette la foto Oppure la mette Terribile Magari Magari Tutti i profili Social Sono curati Nel dettaglio Con una bella foto Poi il curriculum Che serve per Mandare un curriculum E prendere un lavoro Vengono Come dire Gli viene data Poco attenzione Questo è un errore Che io Molto attento Ai dettagli Per esempio Non è che Credisco molto Anzi Non tolero Eh no No La foto va messa E poi soprattutto Beh Ovviamente Se si cerca di mettere Anche una foto Decente Ecco Ecco Magari ecco Non la fototessera Che solitamente Viene sempre male Io mi ricordo Un mio ex datore di lavoro Me lo ricordo proprio Mentre era lì Che stava controllando Il curriculum Perché stavamo cercando Una persona Nel negozio E io mi ricordo Che lui ad esempio A prescindere Proprio a priori Scartava tutte le persone Che nella foto Non sorridevano Lì Era un po' estremo Però Per farvi capire Quanto può essere importante La foto Cioè È proprio Assolutamente Poi Non è che Intanto leggo Se uno è brutto Non viene convocato No ragazzi Non è questo il tema Cioè il tema è che Dipende La posizione Per cui ti stai proponendo Cioè se ti stai proponendo Per una posizione Come marketing manager Come brand ambassador Una persona creativa Il tuo CV deve parlare di te Quindi chiaramente Deve essere un CV colorato Deve essere un CV Che se io sfoglio Tra tanti Perché voi dovete mettervi Anche nel panni Delle HR Del recruiter Della persona Che fa selezione Se io sto vedendo Tanti CV Cerco ovviamente Di dare spazio A tutti quanti Ma è ovvio Che mi salterà all'occhio Cioè è fisiologico Sì Mi salterà all'occhio Il CV fatto meglio Quindi non è il CV Dove ci sarà La ragazza più bella Ragazzo più bello È il CV che sarà fatto meglio Quindi non è il Quanto sono bello O quanto sono brutto È esteticamente Il mio CV Quanto viene bene Quindi anche graficamente Mi deve piacere Io ogni tanto vedo Di quei CV Dove ci sono 700 Colori diversi Non capisco neanche Dove devo partire Per iniziare a leggere Tipo gli fatti Stile PowerPoint Presentazione Disegni Quello magari no Ecco infatti Esatto Esattamente Però magari mi sto candidando Per una posizione Non lo so Finance Quindi nel mondo finance Ovviamente cercherò Di fare un CV Più da mondo finance Per esempio Faccio un esempio Il finance È visto Con un colore blu Cioè se io penso al finance Mi viene in mente il blu Quindi se io devo pensare Di fare un CV Magari ci metterò Una barretta blu Piuttosto che Sono un marketing manager O sono una persona Che si vuole affacciare Al mondo marketing Cosa faccio vedere Faccio vedere che sono Molto social Magari ci metto anche La mia pagina Instagram Perché ho una pagina Instagram Fichissima Con dei colori Con un senso Quindi vado a linkare Anche la mia pagina Instagram Per far vedere Guarda io magari Non ho esperienza lavorativa Perché è il mio primo lavoro Però ti faccio vedere Che io alcune cose Le so già fare Perché le faccio Nel mio piccolo Quindi è un po' Appunto Sara Come dici tu prima L'espressione di Di quello che sono E di quello che faccio Sì vedevo tra l'altro In chat molti Che appunto Stavano commentando La storia della foto Che io sappia In Italia È ancora richiesta La foto Almeno ripeto Quando mi è capitato Di lavorare Comunque in negozio Ho visto il mio stesso Datore di lavoro Che stava facendo selezione Proprio guardando Non la bellezza delle persone Ma chi sorrideva Perché voleva Una persona magari Più solare Oh infatti Io mentre chiamerei La prossima Immagine di curriculum Intanto volevo rispondere Mi inserisco Poi qui non so Come funziona Si alza la mano Per interrompere Giulia No inserisciti pure E Giulia Parliamo tantissimo Entrambe Guarda È come se fosse appunto Una chiacchiera Fra di noi Quindi se hai qualcosa Da dire E vedi lo spazio Tu inserisciti A gamba tesa Vedevo Che Spirolu Spirolu Chiede se Qui si parla Di lavori Tendenzialmente In che settore Per capire Il target Diciamo Io lavoro Come developer Ecco a parte Che poi alla fine E appunto Racconteremo Che c'è una nostra Pagina specifica Live in questo momento Che è una fiera Digitale del lavoro Che parla di lavori Appunto nel digital In particolare Nell'IT Quindi sicuramente Sicuramente Spirolu Troverà qualcosa Di interessante Però calando Magari se la domanda È relativa Al curriculum È certo Che parlando Di IT Raccontare bene Che Cioè raccontare Un minimo Che progetti Che progetti C'è seguito Che tecnologia Si preferisce Si sa usare meglio O peggio Quale linguaggio Di scrittura E anche a cosa Un po' si aspira Cioè se uno vuole diventare Capo di un progetto Vuole rimanere Un developer Vuole testare Nuove tecnologie Vuole avere come capo Desidera avere come capo Una persona Con esperienza internazionale Certo le aspirazioni Sono importanti Sì per capire Noi infatti Cerchiamo di far parlare Più possibile Le aziende Per dare più informazioni Al mondo dei candidati Su cosa piace Cosa è attrattivo E al contrario Cerchiamo di prendere Informazioni Anche video Di come le persone ragionano Le soft skill Come dicevamo Per metterle alla luce Delle aziende Questo è molto importante Poi ci torniamo Però noi proprio Io ho 33 anni Mi piace l'idea Di mettere in connessione Facilitare la connessione Tra persone molto giovani E non solo E chi offre il lavoro E prende decisioni Proprio Con il curriculum Facendo arrivare Il videocolloquio E le esperienze Certo Io adesso Lancio una sfida Alla chat Invece Voi state vedendo Questo curriculum A schermo Quali sono gli errori? Perché questo è Evidentemente Un curriculum Che come non va fatto Che cosa c'è di sbagliato Secondo voi In questa foto? E linkateli Guardate C'è Riva Che vi ha Giunto in chat Tra l'altro L'immagine più grande Se non doveste Vederla benissimo Da qui Così ce l'avete Anche lì Diteci Secondo voi Quelli che sono Gli errori Di questo curriculum Gli occhiali da sole Ecco qual è la prima cosa Ce ne sono Ce ne sono almeno sei Sono almeno sei Esatto Dice Giulia Poi se ne trovate altri Benvenga Perché non mi sono Vedo in chat Vedo in chat Vedo in chat Dicono foto Troppo grande Bianco e nero Chiali da sole Troppi spazi vuoti Dice Troppo grande La formattazione L'ordine per Diana L'ordine D'istruzione Formazione Esatto Come spiegava prima Giulia È importante Che le informazioni chiave Siano le più evidenti E soprattutto Che ci sia una sorta Di senso logico Temporale Cioè si tendono A mettere prima Effettivamente Quelle che sono Le esperienze più recenti E si va indietro Nel tempo Giusto Esatto Yusam dice Il soprannome No in realtà Quello è proprio Il mio nome Quindi Il soprannome Ma il nome Non è tutto E non è tutto Ragazzi Sì me ne sono risparmiata Anche una Un secondo La mio Giusto In realtà C'è Un errore Super killer Che sono certa Che non troverà Nessuno Non ci sono date Sulle esperienze Giusto No non lo so Sì la bio Certo La bio Che io dicevo Dicevo a lei Mi sa molto Da blogger La bio Più che da persona Che effettivamente Sta cercando un lavoro Esattamente Errore di battitura I margini Cioè chi dice Anna Anche Anche i margini Impaginato male Giusto Poco grafico Dal telefono Non riesci a leggerlo Però Quindi dai Ci può stare Che non trovino L'errore Sì Cioè dicono Il pexel E c'è quindi Anche l'errore Quello è stato Fatto a posto Ok È tutto in una pagina Vabbè ma È tutto in una pagina Lupo Albert L'ha trovato È la via Cioè ragazzi Se voi mi scrivete Che abitate In via Mario Rossi 3 Ma io dico Dove abiti Cioè in via Mario Rossi Dove? A Milano? A Roma? Sì 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 Senza magari Esatto Come quelli che Capita a volte a me in chat Che devo mandare Delle cose ai ragazzi Dico raga mi raccomando Ma datemi l'indirizzo E mi mandano La via non mi mandano Le città nei cap Io sono lì tipo Ok Esatto La via Esatto Poi fatevi una mail Per cercare lavoro Cioè io veramente Ne ho viste di ogni Io ho scritto I love pizza Perché mi piace molto la pizza Quindi era la prima cosa Che mi era venuta in mente Però Anche qui Fatevi magari un gmail Sul lavoro Così siete tranquilli Fai una mail apposta Con nome e cognome Che non sia Ecco Cucciolina 66 Più che altro Perché poi Anche la mail Sembra magari Una pataccata Ma poi non vieni preso Sul serio Effettivamente Se la mail Viene derisa Possono sembrare Cose di poco conto Ragazzi però Dobbiamo renderci conto Che comunque Siamo in una società Che valuta anche Queste cose Che possono sembrare Superficiali Sì Sono superficiali Assolutamente sì Ma Se volete fare Comunque una buona impressione Quando vi presentate In un'azienda Cerchiamo di darvi Quelle che sono Gli elementi Per poterlo fare Al meglio Poi sta a voi Assolutamente Potete anche Mettere la mail Appunto Cucciolina 66 Ed essere magari Assunti lo stesso Però No no certo Ma infatti Noi vi stiamo dando Delle indicazioni Generiche Chiaramente per fare Per fare una cosa Fatta bene Poi Tutta le libertà Adesso vediamo Invece un curriculum Visto che gli errori Sono stati trovati Vediamo un curriculum Fatto bene Come effettivamente Andrebbe fatto Che poi anche lì Correggetemi se sbaglio Giulia Alessandro Ma secondo voi Il curriculum Va fatto in base Al tipo di posizione Assolutamente Assolutamente Sì Va fatto in base In base alla posizione Va chiaramente Fatta una piccola lettera Di motivazione iniziale Per quello per cui Ti stai candidando Esatto Esattamente Sì Quindi dovete Dovete investirci un po' di tempo Poi insomma Adesso che arriveranno Anche Anche gli altri ragazzi Sì adesso avrebbe Arrivati Esatto Sì dice Gabri Che abbiamo già gli ospiti Quindi dopo vi facciamo vedere Il curriculum Come effettivamente va fatto Adesso invece Vi presento I due ospiti Che abbiamo qui con noi oggi Che sono Intanto Prima Vi faccio indovinare Di che tipo di azienda sono Ancora prima di farli entrare Perché sennò poi Lo vedete dalle loro Cam Di che azienda sono Vi faccio Vi do tre indizi Allora Hanno la sede a Zola Predosa E questo È il primo indizio Il loro logo È marrone E verde Aspetto Gabri Che parta Con Con le immagini Vai Gabri Voi nel frattempo Raccogliete tutte queste informazioni Vi dovete indovinare Di dove sono Questi ragazzi Perché tra l'altro Sono persone Che hanno un background Estremamente importante Adesso ci parleranno Della loro azienda È un'azienda Famosa Quindi Sarà divertente Riuscire effettivamente A capire Se indovinerete E Il payoff È Sapore Vero Vediamo se Avete indovinato Di dove sono loro Anche senza No No Ho visto alcuni Alcuni nomi in chat Raga Sapore È vero Dai Secondo me Indovinate Intanto Diamo il benvenuto A Kirsten e Antonio Ciao ragazzi Ciao Ciao Buongiorno Ciao Bentrovati Vedo in chat Che hanno indovinato Esattamente Amaro Montenegro Bravissimi Vi hanno già beccato Avevo detto Che c'erano i 30 Che avrebbero suggerito Intanto Appunto Introduciamo Kirsten E Antonio Come vi dicevo Che lavorano In questa azienda E ci raccontano Qualcosa di più Su come vengono fatte Le selezioni Su come Presentarsi Effettivamente Per una posizione In un'azienda Importante Come la loro Raccontateci pure Ragazzi Ok Inizio io Antonio Poi vai tu Certo Scusa per la mascherina Perché sono in ufficio E per Purtroppo Dobbiamo mettere Le mascherine Sei molto responsabile Anzi Brava No 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 Come probabilmente Tutti i ragazzi Mi sentite Che non Non sono italiana Perciò Vediamo benissimo Vai Serena Si capisci super bene Non ti preoccupare Magari dopo Faccio qualche parola In inglese anche Una cosa importantissima Per entrare Nel mondo di lavoro Parlare in inglese Brava La prima Suggerimento Che posso fare Ok Sono Kirsten Pellar Sono sudafricana Lavoro per Gruppo Montenegro Come talent manager Sono entrata In azienda Tre mesi fa Quindi Sei molto fresca Dai Sì 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 Molto fresca Fresh Fresh And easy Poi mi occupo Nelle parte Di selezione Ricerca e selezione E poi L'altra parte Di training And development Di quello che faceva Prima Antonio I dipendenti Si può dire Le persone che effettivamente Entreranno a lavorare In azienda Con voi E come diceva Kirsten Ragazzi L'inglese è importantissimo Questa è una cosa Che io dico sempre Ragazzi Guardatevi telefilm In inglese Giocate videogiochi In inglese Ci sono mille modi Per apprenderlo Anche in modo divertente Si può fare Ed è stra importante Per qualsiasi tipo di lavoro Quindi mi raccomando Ragazzi L'inglese Ok Ti lascio continuare Kirsten Oppure se vuole parlare Anche Antonio Presentarsi Raccontarci appunto Anche lui Che cosa fa Che vedo Kirsten Ferma nel tempo Sì Si è frizzata E allora Mi sentite? Sì sì assolutamente Ti sentiamo Ok Dice Kirsten Che Internet doesn't work Ok Allora io mi occupo Di quality and inclusion In Gruppo Montenegro E di un po' Un nuovo framework Con cui ci assicuriamo Che Ci sia Di base Uguaglianza E trasparenza Nei processi Nelle attività Che facciamo E Poi seguo la parte Di Commercial Italia US International E come business partner Quindi come HR Business partner Di base È una figura Tra Il business E l'HR Ok esatto Più in soldoni Giusto perché Appunto Spesso e volentieri Usiamo molti tecnicismi Ma io compresa A volte Non so bene Che cosa effettivamente Voglia dire Quindi è la figura Che si pone nel mezzo Antonio Giusto? Esatto Esatto Sei il tramite E anche tu sei Fresco di assunzione Come Kirsten O sei in azienda Da più tempo? Io sono Fresco Non scaduto C'è una cosa Sono da tre anni Circa In Contenegro Quindi Circa Tre quattro mesi fa Ho cambiato ruolo Quindi Kirsten Ora ricopre un ruolo Che Prima facevo Anch'io Quindi c'è stato Un po' di job protection Che è sempre Insomma Un aspetto sano Di un'organizzazione Il fatto che Permetta di Scambiarsi ruoli Crescere Prendere nuovi progetti Perché insomma Il mondo che viviamo È molto dinamico Quindi Mettersi costantemente Alla prova Su nuovi progetti Nuove attività Insomma Poi ti permette Di essere sempre Attento Sì attento E poi Esatto Aumentare anche Poi gli abiliti Un po' Che è un concetto Da passare Che è Dare il giusto tempo Ai progetti Quindi diciamo Un arco temporale Di un anno e mezzo Due È un buon arco temporale Su un progetto Per dire Sì realmente l'ho gestito Non lo so L'ho scritto sul curriculum Ok E poi magari Se hai performato bene Poter chiedere anche Di prendere altre responsabilità Ecco Dato che oggi appunto Parliamo di curriculum Parliamo di colloqui C'è qualche consiglio Che ti sentiresti di dare Magari ai ragazzi Per chi volesse Effettivamente Provare a presentarsi Per una posizione Magari Nella vostra azienda Quali sono le cose Che di solito notate Cioè Come dovrebbe Porsi una persona Per Certo Per lavorare con voi Allora Noi Come tante aziende Utilizziamo Interviste comportamentali Quindi di base Si chiede spesso Cosa faresti In questa situazione Cosa Come ti comporteresti E cerchiamo di Far sì Che sia un incontro A due Quindi Fate tipo Delle domande Cosa Allora Se ti trovi in questa situazione Come la risolveresti Cioè Di questo tipo Esattamente Esattamente Quindi è un Ti presenti In una videocall La tua collega Sparisce Che cosa fai Di base Continuo Io Mi racconti Un esempio In cui è successo Ieri È successo Con 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 i colleghi Di Siving Quindi Questo perché Da un lato È importante Anche Saper analizzare E Creare delle strategie Velocemente Quindi Botta e risposta Spesso Noi questi colloqui Immagino che facciate Sì sì Un botta e risposta E poi anche Parlare di Qualcosa di concreto E quindi Il consiglio Che dall'altra parte Do è Utilizzate storie vere Certo Concrete Qualcuno Chiveva prima E Dire la verità Aiuta in un colloquio Antonio Allora La verità È un concetto Un po' Un po' Altro E quindi Diciamo Delle Delle storie vere Delle storie vere Un po' Magari Ecco Facciamo così Se sei un tipo Che tende a fare Overselling Un po' Meno Se sei un tipo Che tende a sottostimarsi Un po' Di più Quindi Cercate di capire Su che polo siete E cercate di stare Un po' Nel mezzo Esatto Bentornata Intanto Kirsten Stavamo Cioè Antonio Ci stava raccontando Quello che è in generale Il vostro approccio Nell'azienda Per le assunzioni Sappiamo che La connessione È un po' Ballerina Quindi non so Se ci stai sentendo Ma nel frattempo Io appunto Farei andare avanti Antonio Più che altro Perché Cioè Molte persone Infatti si chiedevano È importante La verità Raccontare Effettivamente Delle bugie Può essere Controproducente Beh a sto punto Sì perché Se poi racconti Che sai fare Questo Questo E questo Che hai avuto Questo tipo di esperienze E poi ti trovi In una situazione Dove non Non le sai affrontare Io penso che Sia facile Poi Mandare effettivamente A casa una persona Quando ti rendi conto Che ti ha mentito Magari al colloquio No? Cioè te ne accorti Sì hai colto Un punto fondamentale Cosa che è successo Nella mia esperienza Che a volte Uno può essere Un bravissimo attore E anche raccontare Degli eventi Che magari ha visto Fare ad altri Così nel dettaglio Che sembrano Sua storia E magari Dall'altra parte Uno chiaramente ci crede Il problema è che poi Quelle cose che raccontate Dovrò farle tutti i giorni Quindi È fatica Essere una persona Che non sei Quando devi farlo Tutti i giorni È una bella fatica Quindi Ecco Un po' il consiglio Da dare È quello di Studiare E cercare di comprendere bene Alcune posizioni lavorative Anche se all'inizio Chiaramente Tu hai un'idea Poi E testando Dici sì Realmente mi piace Però Questo è un po' Un dialogo Che tu devi avere Con te stesso L'altra parte Ti può aiutare E dire guarda Che in questo ruolo Serve analisi Serve problem solving Serve questo Certo Alla fine Ogni ruolo Ha bisogno di Capacità diverse Adesso abbiamo imparato Ormai hard skill E soft skill Diverse Sei preparatissima Mi ha segnato Alessandro Io so solo questo Sto ascoltando No beh Sono cose comunque Importanti Perché L'esempio che faceva lui Prima Può servirti Magari un tecnico Che effettivamente Ti debba risolvere Dei problemi Per quanto riguarda Non funziona La fotocopiatrice Cioè non ti serve Una persona spigliata Per sistemare Una fotocopiatrice Però ti può servire Invece per presentare Magari un prodotto Quindi ovviamente Perché prima i ragazzi Si spaventavano Dicendo Eh però magari Se io non le ho Le soft skill Non ci sono solo ruoli Che hanno bisogno Effettivamente Di spigliatezza Ci sono anche tanti ruoli Che non ne hanno affatto bisogno Quindi dipende Per che cosa vi candidate Poi ci sono Di ruoli In cui non serve Essere spigliato Anzi E immaginate Un lavoro In un laboratorio Una persona Che fa ricerca e sviluppo Sarebbe una persona Sì molto attenta No? Nel senso Che magari Passa tutto il tempo A parlare Cioè probabilmente Ci sono tanti altri ruoli Bellissimi Tanto e quanto belli Come nel mondo sales Però magari La relazione È più importante Certo Ad ogni persona C'è il suo ruolo Adatto secondo me Ecco Kirsten Forse ci siamo Forse la connessione Sta tenendo Il mio telefono Meglio Ah bene Hai fatto bene A volte prende meglio Effettivamente Un'altra cosa Che noi adesso In questo momento Stiamo facendo Nel mondo Remote working Magari è meglio Avere due Due Modo di connettere All'internet Ah sì certo Perché se lavori Effettivamente da casa Fai smart working Importante È avere sempre La possibilità Di connettersi Quindi se non va La linea fissa Si va di telefono Che io a volte Lo uso anche per streamare Funziona pure meglio E dicevano Vabbè come Orlando Bloom Le associazioni tra Antonio Che è diventato Orlando Bloom No beh In generale ragazzi Poi dipende sempre Dal tipo di lavoro Che volete andare a fare Anche andare Magari Cercare lavoro E mandare curriculum Effettivamente Ovunque Può anche avere Meno senso Che effettivamente Concentrarsi su qualcosa Perché Cioè se voi Magari Non lo so Volete andare a fare Il cassiere O l'operaio In un'azienda E poi Che ne so Mandate il curriculum Per un posto Da direttore generale Delle vendite Capite da voi Che ha poco senso Cioè anche Saper targhettizzare Effettivamente Il tipo di lavoro Che una persona vuol fare Secondo me È estremamente importante Sì esatto Abbassiamo lo spamming Dei CV Perché magari C'è la stessa persona Che si candida Per dieci figure diverse E lì ti domandi E dici Ma che cosa Sei fare Delle dieci cose Per cui ti sei candidato Cioè piuttosto Personalizza il CV Fallo per una Però sei certo Che ti stai candidando Per quella giusta Certamente Tra l'altro Proprio quello che diceva Giulia Ormai ci sono questi sistemi Application tracking system Che ti dicono Tutto quello che fai Con l'azienda Quindi se ti applici Per dieci posizioni È la prima cosa Che uno vede E dice cavolo Si è applicato per tutti Quindi ho un genio Delle soft skills Cosa probabile Però rara Oppure Sì Mi hai percepito Un po' come spamming Certo Sì Ne approfitto Del fatto che Kirsten Sia qui adesso Per chiederti Effettivamente Come svolgi Le tue selezioni Dato che prima Antonio ci ha un po' raccontato Però Dato che appunto Ti occupi tu Delle HR Mi piacerebbe sapere Effettivamente Che cosa valuti Ok Per me ovviamente È importante È una cosa Che io Sono andata Stamattina In una fiera Dove ho parlato Anche su questo tema Di Un candidato Deve sapere Dove vuole andare A lavorare E si vede proprio Anche nel curriculum Magari Un candidato È molto generico Intendi Sì Magari Se uno Che noi Ovviamente In questo momento Magari Cerchiamo una persona Che lavora Nell'R&D E se uno Che ha davvero Studiato Questo Magari Viene Da questo Settore Capisce Anche Probabilmente Questa persona Ha fatto davvero La ricerca In un modo Molto Snello Certo Per me È importante Anche vedere Questo Vedere Il passione Anche Capire Da dove Viene Questo candidato Magari È un candidato Che non ha mai Avuto L'esperienza Ma ha fatto Davvero Un lavoro Sul suo Curriculum Davvero Ha fatto Anche la ricerca Sull'azienda Quello che diceva Prima Giulia Esatto Cioè Vedere una persona Che effettivamente Vuole Quel lavoro Che davvero Si è impegnata Per capire Quello che Che fate Che tipo Di ruolo Può svolgere Invece che appunto Spammare Magari I curriculum Ad area Per vedere Se effettivamente Viene assunto Da qualche parte Per me È anche importante La lunghezza Del cv Un cv Più di due pagine Io non lo guardo Sinceramente Certo Dove c'è tantissime parole Come una storia Un libro È davvero Molto difficile Per noi A rileggere È importante Avere i spunti Importante Highlighted Da dove Viene I miei occhi Come un esempio Quando vai A fare il shopping Ovviamente Vai lì E si vede Proprio La cosa Che cerchi Le cose In offerta Magari Le noti I cartelli Colorati Accattivanti Sì Una cosa Che Io ho fatto Anche questo esempio Ci sono tantissimi Diversi Piattaformi Anche Sistemi Dove puoi andare A fare Un cv Per chi Creare un cv Molto Come si dice In italiano Molto Attractive Accattivante Sì Sì Molto Attractive Che Proprio Quando io Vedo Questo Magari Non è un designer Che deve Creare un cv Ma deve Che mi fa Fermare E guardare Il cv Certo Poi un'altra cosa Questa persona Ha anche delle capacità Creative Che effettivamente Può mettere Al servizio Dell'azienda Sì sì Un'altra cosa Che per me È importante Siccome Noi vogliamo Diventare E stiamo Lavorando D'avere Sull'internationalization Una persona Magari Che ha fatto Un piccolo Corso O magari Ha fatto Un'esperienza All'estero Magari Ha fatto Un Erasmus In Inghilterra In Spagna Una cosa Anche Davvero Bello Da vedere Una persona Che Cerca Di Essere Più Diverse Di cerca Di essere Dalla comfort zone Magari Sì 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 È importante Anche per me Quando faccio La selezione Dipende anche Sul ruolo Sulla posizione Certo Però Ovviamente Un'esperienza All'estero Viene valutata Positivamente Nell'ottica Di un'azienda Ad esempio Come la vostra Magari Non è così Effettivamente Per tutte le aziende Però Anche Come dicevi tu La capacità Di parlare In inglese E Sapere Che una persona Ha fatto Un'esperienza Magari Altrove Ti dà Anche l'idea Magari Di adattabilità Di quella persona Quindi Magari Sì giusto Sapersi reinventare Ecco E io Più che altro Volevo far vedere Ragazzi Effettivamente Come poteva essere Fatto Un curriculum Fatto bene Ma Lo facciamo Magari Più tardi Quando Quando non ci sono Cristiano e Antonio Perché Vedevo che mi chiedevano In chat Ne parlavamo prima Ma dopo Lo faremo E per quanto riguarda Questa live Ragazzi Assolutamente Sì Poi la ricarico Su youtube Perché è assolutamente Utile So che molti di voi Magari non riescono A seguirla tutta Quindi poi La potrete recuperare Con calma Nel pomeriggio Vedo già Chi si preoccupa Che dice Dovrò smanettare Con illustrator In chat Beh È importante Ragazzi Personalizzare Il vostro curriculum Penso che Appunto Alessandro Giulia Kirsten e Antonio Siano qui Anche per spiegarci Questo Anche un'altra Piattaforma Che è molto Potenziale A usare LinkedIn Ah sì Su LinkedIn Puoi anche creare Un cv Vero Tra l'altro su LinkedIn Puoi effettivamente Aggiungere tutte le esperienze Lavorative Puoi aggiungere Che noi usiamo Davvero spesso LinkedIn Per fare Headhunting Per cercare i profili Quindi Vedere anche Effettivamente Cosa una persona Ha fatto a livello pratico Perché Lì Tra l'altro Puoi proprio mettere I link LinkedIn Puoi mettere effettivamente I link Delle Delle attività Che hai svolto Con tanto di tag Anche quello È un ottimo social Effettivamente Anche i tesi Che hanno scritto Che hanno fatto Durante l'università Sì ma anche sopra C'è una luogna Come si chiama Un'immagine di copertina Davanti Il banner Sì il bannerino Quello lì si può utilizzare Per comunicare Ad esempio Noi ovviamente Io e Giulia Utilizziamo il nostro Profilo LinkedIn Per far sapere Il mondo dei manager Che abbiamo Delle iniziative Perché per noi Sono potenziali clienti E quindi lo siamo Per mettere Gli appuntamenti Alla prossima Per esempio Digital Talent Week Che è una fiera digitale Del lavoro Ma una persona Che sta cercando lavoro Potrebbe scrivere Ad esempio I love Developing Certo Ad esempio Qualcosa di simile Che adesso L'ho fatta semplice Che posiziona Un'immagine di se stesso Con un suo hobby Con una sua passione Qualcosa che sa fare bene È una spazio per comunicare Che viene visto subito E poi un'altra parte Importante di LinkedIn È la frase Che è sotto l'immagine Usare poche parole Per dire Un po' Ad esempio Sono Il migliore Nel fare questo Oppure Amo Programmare Amo Sare a contatto Con i clienti E questo viene visto Quando viene fatta Una ricerca Da chi Come Kirsten Cerca Candidati Potenziali candidati Viene vista L'immagine Nome Cognome E questa frasetta Quindi è logico Che è più piacevole È più probabile Che venga cliccata Quell'immagine Quella persona Che in quel momento È interessante Ecco Quindi cura Del CV Ma non solo Anche effettivamente Dei social Come LinkedIn Che vi permettono Effettivamente Di trovare lavoro Anche su Instagram Magari Se hai un profilo personale Anche uno profilo Professionale Che si puoi collegare Insieme Certo Esatto Poi io Consiglio sempre Poi in realtà Faremo una seconda Diciamo diretta Dedicata solo a LinkedIn Quindi vi spiegheremo Tutto anche su questo Però Diciamo due o tre cose Anche su LinkedIn Magari è utile Che pochi lo sanno Voi potete modificare Proprio l'URL Url Me lo passeranno I più tecnici Del Del vostro profilo Quindi dove viene fuori Per esempio www.linkedin.com Slash Giulia Pedrossians Slash Il lavoro Per cui vi state candidando Cioè per esempio Se guardate il mio C'è scritto product manager Io ora non mi sto candidando Per niente Però diciamo È il mio profilo E quindi nel momento in cui Una persona va a ricercare Product manager Mi viene fuori direttamente Il mio profilo Perché ce l'ha inserito Nell'URL Questa è una cosa Che sanno in pochissimi Però è un metodo di ricerca Che su LinkedIn Funziona tantissimo Quindi se voi entrate Proprio nella pagina LinkedIn A destra Potete fare anche Questa modifica Certo Poi come diceva Giulia In una prossima live Vi spiegheremo anche meglio Nel dettaglio Come funziona LinkedIn Adesso ve la accenniamo Perché magari ci sono alcuni Che seguono questa Non riusciranno a vedere La prossima Comunque poi Io ve le metto su YouTube Lì le potrete recuperare Un altro strumento utile È Canva Che ho scoperto Ah Canva Sì lo uso anch'io Canva c'è anche La versione free È già da alcuni modelli Molto interessanti Canva io lo uso tantissimo Lo uso per fare le copertine Dei video Fai te Sì Per creare CV Per fare diverse cose Sì sì Canva mega consigliato Anzi Ve lo metto pure in chat Ragazzi Vi metto il link in chat Se non sapete Che cosa sia Perché proprio ieri Che mi era scaduto Adobe Infatti stavo dicendo Come mi è scaduto Devo rinnovare E infatti stavo usando Canva E stavo spiegando ai ragazzi Proprio cosa fosse C'era Sfirolu Che faceva la domanda Invece opposta Che diceva Che lui invece Riceve tantissime richieste Di persone Che spesso e volentieri Sono richieste anonime In cui si capisce Che non è stato visto Il suo profilo Lui appunto Seleziona del personale E come comportarsi Nel caso in cui Appunto vengano richieste Ricevute Tantissime Richieste Di posizioni lavorative Ma da persone Che effettivamente Non sono interessate Cioè si scarta A prescindere Immagino No ma non ho capito Quindi lui fa la selezione O riceve tante Ah lui fa la selezione Riceve praticamente Tanti curriculum Di persone a caso Che capisce subito Che non hanno Mentre aperto Il suo profilo Sì Vabbè succede anche a noi Nel senso che Magari anche a me Arrivano profili Non solo per Siving Ma anche per tutte Le aziende Che seguiamo Per esempio Quello che noi facciamo Vabbè noi abbiamo Un sistema di support Che va a incanalare Poi tutti quanti I CV Fondamentalmente Gli va richiesto Di fare la candidatura Spontanea O comunque Di scriversi al sito Per rimanere aggiornato Quello che io consiglio Magari è Per le aziende Inserire Non lo so Sempre un'autocandidatura All'interno del sito Perché tutte quelle persone Che non si riescono A collocare Nelle open position Possono farlo Nell'autocandidatura Perché non si sa mai Magari io poi Da recruiter O da HR Nel momento in cui Vado a ricercare In database Mi capita proprio Quella persona Che si è autocandidata Quindi Lato HR Vi consiglio Tendenzialmente Di fare questo Cioè di avere Un posto Dove queste persone Comunque possono Possono autocandidarsi Poi capisco Che ci siano tanti Magari candidati Prima leggevo C'è chi ha fame È vero Però non confondete La fame Con la disperazione Da CV Cioè non è che Mandare 100 CV A caso Vi porta a trovare Il lavoro della vostra vita O un lavoro qualsiasi Piuttosto mandate meno CV Fate in maniera più mirata E raggiungerete sicuramente Diciamo Un buon risultato E non andrete A gravare Su queste persone Appunto Che magari Dicevano Tutti questi CV E non sanno poi Fondamentalmente Cosa farsene Perché non sono neanche CV Nerenti al business Che gestiscono Quindi Ripeto Cercare un lavoro È un lavoro Fatelo sempre Con molta moderazione Ecco E con molta Con molta attenzione Lato HR La candidatura spontanea Secondo me è fondamentale In qualsiasi sito Pagina carriera O qualcos'altro Questo è un ottimo consiglio Perché noto spesso Dai racconti che mi fanno Anche i ragazzi Capita spessissimo Di parlare anche di queste cose Che molte persone Che effettivamente Non riescono a trovare lavoro Mandano invece Curriculum molto generici A tutti E invece Quello che dici tu Proprio focalizzarsi Su una posizione In particolare Dire Ok Mi piacerebbe essere assunto In questa azienda Vediamo che cosa fa Questa azienda Quindi Informatevi a monte Cercate di capire Che cosa fanno Cercate di capire Che cosa potreste fare Voi All'interno di quell'azienda Questo vi porta subito A essere in una posizione Comunque Di vantaggio Magari rispetto Appunto A tante persone Che effettivamente Mandano i curriculum A spam Poi Altra cosa Mega importante Che tra l'altro È un discorso Che facevamo Settimana scorsa Quindi casca proprio a fagiolo Quanto è importante Il vestito Cioè L'outfit Quanto L'abito Fa il monaco Parlavamo veramente Settimana scorsa Di sta cosa Chiedo a Magari Kirsten Adesso Sì Scusa Lanciamo anche la domanda Cioè Vediamo se Esatto Esattamente Facciamo proprio la domanda Anche in chat Prac Ti chiedo la cortesia Se mi fai partire il sondaggio Quanto L'abito Fa il monaco Sì No Cioè Secondo voi L'abito Fa il monaco Sì Grazie mille Prac Dici pure Kirsten No Mi ricordo Perché io ho lavorato Un altro settore Prima che sono arrivata Alla gruppo Montenegro Un settore di tecnologia Startup Dove hanno sviluppato Un'applicazione E mi ricordo C'era un candidato Che adesso è stato Assunto Dall'azienda Che è arrivato Davvero Molto elegante Ok E c'era il capo Che è andato a lui E ha detto Per favore Togli tutti questi vestiti Troppo eleganti Sì Non siamo un'azienda così È davvero importante Per me Importante capire Dove Dove vai No? Capire la cultura Dell'azienda Magari Vai su LinkedIn Se ci sono le foto Dei dipendenti Per capire Smart Più come Come lavorano lì Magari Fai un'amicizia Con qualcuno Su LinkedIn Per capire Magari Chiedere a loro Un po' di informazione Poi anche chiedere L'HR Quello che Che magari Fisso il colloquio Per capire What is the dress code? Perché le domande Poi sono sempre apprezzate Nel mondo Perché comunque Un colloquio È anche Un colloquio Dal vivo È anche Un dialogo Spesso si vuole vedere Come le persone Ragionano Nel quotidiano Nel lavoro Persone che fanno domande Sono sempre apprezzate Anzi A me hanno insegnato Io Suggerisco Ai miei colleghi Tutti i giorni Di andare Nelle aziende E fare tante domande Perché in base Alle informazioni Puoi comportarti Di conseguenza Puoi parlare Delle cose giuste Non far perdere tempo Nessuno E andare dritti Sulle informazioni Che servono E così come Vestirti sulla base Di quello Che gradiscono Beh effettivamente Quello che diceva Kirsten è molto valido Perché se effettivamente Ti devi presentare Un colloquio E chiedi in anticipo Dici qual è il dress code Devo essere elegante Devo essere formale Devo essere casual Già ti danno subito Già ti danno subito L'informazione Viene apprezzato Il tuo interesse Sicuramente E fai anche Una figura migliore Volevo dire una cosa Ma non riesco A dire in italiano Se va bene Posso dire in inglese Dilla pure in inglese Sì 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 Che dura per sempre La prima impressione Sì sì È importante Quindi Ma tu pensi che sia appunto Un insieme di tutte queste cose Che può essere il vestiario Può essere L'attitudine Appunto le soft skill Di cui parlavamo prima Cioè proprio un insieme Giusto? Per questa first impression Sì sì È importante È importantissimo Sì poi io Devo andare forse Perché eravamo rimasti Che dovevano andare Giusto? Ah va bene Ragazzi Allora io ringrazio Kirsten e Antonio Tantissimo Per il loro contributo E grazie ragazzi In bocca al lupo Con il vostro lavoro Vi ringraziamo Per le informazioni Che ci avete dato Grazie mille Ciao Ciao Grazie mille E allora noi direi Proseguiamo Vedendo invece Quello che è Il curriculum corretto Da fare Che c'era rimasto Un attimo In sospeso prima Esatto Il 76% della chat Dice sì L'abito fa il monaco Sì esatto Io su questo poi Ho letto Sempre qua delle chat E sono d'accordo Su una cosa Cioè al di là Che l'abito fa il monaco Ma Cioè è la cura Della persona Al di là di Che tipo di vestito Ti metti addosso Quindi una persona Che comunque arriva Pulita Curata Ad un colloquio di lavoro È una persona Sobria Io dico sempre Sobria Esatto Assolutamente Cioè è più importante Magari ecco L'igiene La pulizia Magari ecco Un taglio di capelli Che sia Non dico Per forza ordinato Perché ognuno poi Ha il suo stile Però dipende appunto Per il tipo di posizione Dove vi presentate Ovvio che se arrivate Con i capelli Sparati per aria Che sembra che vi siete Appena arrotolati Fuori dal letto Dipende sempre dal lavoro Poi Esatto Dipende dal lavoro Infatti dipende Per cosa Essere un tipo Ad oggi È spesso Apprezzato Non in tutti i lavori Non in tutte le aziende Però molto spesso Da quell'idea di creativo Magari Sì esatto Ok E quello che stiamo vedendo qui Ragazzi è un curriculum Invece fatto bene Un curriculum che Salta all'occhio Non so Giulia Se ci vuoi spiegare Sì esatto Cioè questo è Il mio curriculum base Poi come vedete Il mio curriculum È un curriculum Molto sobrio Perché comunque Io ho sempre lavorato Nel mondo Nel mondo HR E quindi fondamentalmente Ho anche delle esperienze Di lavoro Che si susseguono In maniera molto Molto graduale Potete giocare Di più sui colori Potete giocare di più Su raccontare Le vostre esperienze Lavorative Quello che vi consiglio È non disperdetevi Nei troppi interessi Nelle troppe cose Perché è vero Che un CV Vi deve raccontare Però se poi Scrivete il papiro Di 12 pagine Dove andate a raccontare I vostri interessi Magari non è questo Che interessa Le HR Quindi cercate di essere Sempre stringati Io consiglio di fare Sempre il CV In una pagina Poi è ovvio Che se una persona Ha 30 anni Di esperienza lavorativa Andiamo magari a condensare Sì e verrà un po' più lungo Però andiamo a condensare Le esperienze Che risalgono a 30 anni fa Andiamo a raccontare Dove mi sono focalizzata adesso Che cosa sto facendo Eccetera eccetera Quindi cercate Di fare sempre Tutto in una pagina Perché è molto più fluido Anche da leggere E soprattutto Come diceva Sara Prima Nella parte iniziale Mettete le cose fondamentali Quindi vostro nome e cognome Il vostro ruolo Il numero di telefono La mail Dove abitate Con chiaramente La città E poi potete giocare Cioè c'è chi Al posto della bio Per esempio Scritta come l'ho scritta io Mette magari Semplicemente una riga Sotto il nome Per andare a spiegare Chi è Quindi Un pochino questo Tipo una frase Esatto Che può effettivamente Catturare l'attenzione Come dicevamo prima Esattamente Come dicevamo prima Eh più che altro Invece La domanda che faceva Diego Che è interessante Dice Ma ancora ha senso Consegnare i CV cartacei Effettivamente è una cosa Che è venuta fuori Spesso anche qua in chat Perché c'è chi Effettivamente Li va a dare a mano E vuole presentarsi fisicamente E chi invece Li manda online Come la vedete Da questo punto di vista Eh noi siamo Cento per cento digitali Quindi per noi Salviamo la foresta Nel senso che La carta non esiste Io Figurisco di dire Sinceramente So che molte aziende Non possono neanche Processare i CV di carta Quindi può esserci Qualche eccezione Ma piuttosto Se si va in un negozio Si va Si conosce qualcuno Che potrebbe Tra virgolette Processare O far vedere Il tuo CV A una delle risorse umane Per esempio O a un titolare Gli si può dire A che mail Posso mandare Il mio curriculum Perché così Fai il favore La persona Che con un clic Lo inoltre Eviti che quel curriculum Rimanga sul tavolo Di qualcuno Non venga mai Ma venga buttato Sì infatti Ma poi Molte aziende Medie e grandi In particolare Ormai hanno questi software Di cui Antonio ha accennato Si chiamano ATS Va bene Che servono Praticamente Per raccogliere Le informazioni Dei candidati E per loro È molto più veloce E poi Andare a ricercare Una persona Anche per parole chiave Per provenienza Per un sacco Per un sacco di informazioni E in questo modo Avrai delle opportunità Future Invece il curriculum Può essere buttato Utilizzato Insomma A vita breve A vita breve Quindi sempre meglio Comunque mandarli online Per rispondere Appunto A quella che era La domanda Mentre ci sta Andare Di persona A proporsi Come Candidato E poi Gli mandi Ecco questo Ok Quindi tu dici Se vuoi effettivamente Andare lì Per fare buona impressione Poi Come per riassumere Il tuo discorso Chiedi una mail E mandi la mail Direttamente a quel curriculum Dopo che hai parlato Con il diretto interessato A quel punto Prepara quelle dieci parole Da dire Quando ti presenti Di persona Io sono Alessandro Doggi Sono un esperto digitale Di risorse umane Sono qui Perché vorrei Lavorare con voi Magari nel sales Posso mandare Il mio curriculum A una mail Ecco In questo modo Risulti professionale Ordinato Sobrio Come abbiamo detto E fai anche Magari una buona impressione Assolutamente Nessuno dirà mai di no Certo Così è molto Effettivamente Una buona presentazione E invece Io volevo chiedere Più che altro Questo da te Alessandro Se vuoi spiegarci In realtà Cos'è Siving Perché è tutto adesso Che diciamo Siving 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 Ma i ragazzi Non sanno effettivamente Che cos'è Cioè Qual è l'innovazione Di Siving Molto volentieri Intanto poi Se andiamo avanti Con la grafica Così Perché so che Ecco Allora Qui c'è Un alimento emblematico Ve lo lascio guardare un attimo Questo è un nostro collega Molto Molto simpatico Che Fondamentalmente Sta rispondendo A una domanda Che gli è stata richiesta On demand Faccio un passo indietro Il mondo dell'on demand Immagino che non debba Spiegarlo In questo contesto È tutto quello Comunque Per esempio Si parla Ho sentito Delle notizie In cui Oggi c'è il passaggio Al nuovo digitale Terrestre Per guardare la televisione Per chi la guarda E si parla Anche di Un'offerta Molto più ampia Di contenuti On demand Quindi tutto quello Che sono le series Le serie Eccetera Noi abbiamo adottato Questo modello Al mondo Dei video Dei colloqui Di lavoro Che Attenzione Non sostituiscono Il colloquio di persona Ma Accompagnano Completano Una candidatura Con il curriculum Ok Significa che Un reclutatore Facciamo per esempio Kirsten Che è un nostro Montenegro Un'azienda cliente Storica Di Siving Che apprezza molto L'innovazione Il digitale E anche un comportamento Con i propri team Di dipendenti Molto Nuovo Molto friendly È bello Lavorare In gruppo Montenegro E Fresh Come diceva lei Sì Esatto Lo vedete anche Dalle persone Come loro Quindi cosa succede Che se io devo Chiedere Ad esempio Sto cercando Una persona Non lo so Come digital marketing Social media specialist Chiamiamo così Che si occupi Dei social media Dell'azienda Chiedo Mandami il curriculum Poi Clicca questo link E rispondi Alle cinque domande Che visualizzerai Una dopo l'altra Da quel momento Avrai Circa 30 secondi Per pensare A risposta Ma puoi fare start Se sei molto Come dire Preparato Sulla domanda E poi hai Massimo un minuto Per rispondere Queste domande Sono Nella maggior parte Dei casi Cioè una prima Presentati Per esempio Che è generica Serve per rompere Il ghiaccio Perché magari Uno non è abituato Un po' timido Sì Anche se siamo abituati A guardarci nella webcam Tutto il tempo Poi magari Possono essere fatte domande Dove non c'è Nella maggior parte Dei casi Non c'è una risposta Esatta C'è un raccontarsi O raccontare Un'esperienza Come per esempio Non so Viene chiesto Molto spesso Qual è il tuo hobby Oppure quali sono Se ti ritieni Una persona ambiziosa Perché È logico Che se mi sto candidando Per una posizione Ambiziosa Io non posso dire No Non c'è bene La volare Ho bisogno Di comprare La playstation Esatto Devi dire Sono ambiziosa Per questo motivo Ad oggi Ho fatto Queste esperienze E mi piacerebbe Un giorno Poter ricoprire Questo ruolo In un'azienda Di questo settore Per esempio E Potrebbe capitare Una domanda In inglese Per esempio Spesso viene messa Noi consigliamo Sempre l'ultima Perché in Italia Spesso è un plus Anche se dovrebbe essere Una cosa normale E Come dire Che si Poi che sia prima O l'ultima Non cambia A livello di Come dire Di punteggio Se quella La lingua Per quella posizione È importante Verrai probabilmente Penalizzato Se non lo sai E apprezzato Se lo sai Molto spesso Anche in posizioni Lavorative Ad esempio nel food No All'interno del ristorante Non è fondamentale Ma sappi che Se ci sono tanti concorrenti Parlare inglese Può diventare Rilevante Esatto Questo sistema Viene usato un po' Per tutti i lavori E c'è una questione Molto importante Non è mai obbligatorio Almeno con il sistema Nostro Di Siving Che utilizzano I nostri clienti Le aziende clienti Non è mai obbligatorio Perché Di base Con il curriculum Sei candidato A volte Ti possono essere richieste Anche delle risposte Multiple choice A crocette Che Per capire Non so In che città ti trovi Se sei disposto A viaggiare E così via Per conoscerti prima E la parte Del videocolloquio Arriva dopo Perché è integrativa E noi ripetiamo Reputiamo Che sia Sinonimo Anche di motivazione Cioè Come diceva Mettersi in gioco Mettersi in gioco Non sapere Che impiegherai Cinque minuti in più Ok Per fare una candidatura Forse ne fai qualcuno in meno Ma la fai bene E tra l'altro Scavalcherai A molte persone Che sono state Negligenti Cioè Non hanno voluto investire Quei cinque minuti E magari Non erano neanche Particolarmente vicine A quel tipo di lavoro Offerto Vabbè sì Mandare un video del genere Comunque Come presentazione Insieme al curriculum Ti permette di essere notato E di far vedere Che tipo di persona sei Che obiettivamente Appunto Come dicevamo prima Visto che il curriculum Spesso non lo mandi fisicamente È importante Presentarsi Dire Ehi Ciao Sono qui Mi sto Mi sto mettendo in gioco Vorrei essere assunto Sì Assolutamente Poi Come dicevamo Il curriculum È importantissimo Farlo bene E si dice anche Di farlo sintetico Che è la richiesta Più comune Dei recruiter Quindi se è sintetico Vuol dire Che devi essere bravo Insomma Dosare le informazioni Le parole Perché Altrimenti Non viene letto Però Tutto quello Che non puoi scrivere Lo puoi dire In un video colloquio Dove Gira e rigira Le informazioni Che ti vengono richieste Sono spesso Come dire Le stesse Almeno quelle Delle soft skill Prepararsi Su chi voglio diventare Se sono ambizioso Se ho dei pregi O dei difetti Spesso viene chiesto E viene chiesto Anche dal vivo È qualcosa Che ci dobbiamo Preparare prima E questo a priori Ma forse Nella vita Quando si incontra Qualcuno Dove vuoi fare Bella figura Sapere chi è Cosa fa E io come Mi presento Pensarci cinque minuti È sempre importante Certo Quindi le domande In generale Che guarda Ti anticipo So già Che in giatto Tanto lo chiederanno Quali sono le domande Che secondo te Vengono fatte di più Con chi sei Sei ambizioso Che cosa ti piace fare Nella vita che ho B.I. E dicevi Sintana mi hai chiesto Quello come ti vedi Tra tre anni O tra cinque anni Qualcuno lo considera Un qualcosa di vecchio Come domanda Ma secondo me Anche piuttosto attuale Perché si capisce Se la persona è ambiziosa O meno E se Tra virgolette Conosce un po' La naturale evoluzione Di quel tipo di lavoro Raccontare Raccontare In modo molto sintetico La propria esperienza Professionale Oppure Cosa sei fare meglio Qual è la cosa Che sei fare meglio Per esempio Cioè Sai che hai un minuto Quindi Sapere essere Anche La data Della sintesi E Insomma Di dare un po' Di informazioni È importante Io Quello che dico sempre È Di non essere Di non preoccuparsi Perché Comunque c'è il curriculum E il fatto Di aver Effettuato il videocolloquio È un po' Come dire C'è un compito In classe Bisogna consegnare Non sai se è perfetto È meglio consegnarlo Che non farlo Perché altrimenti Rischi di non essere valutato Cioè Parti da questo Da questo punto qui E poi Molti recruiter Apprezzano davvero Quando magari C'è Su alcune domande Non hai risposto bene Ma su altre Poi Prendi mano Con Cioè Prendi Mistichezza O Dai un'informazione Importante di te Quindi Non ci preoccupiamo Di questo E io A tal punto Passo anche un po' All'argomento Successivo Quindi possiamo Anche cambiare Grafica Che è Il fatto Come anticipavo Prima Che Digi al Talent Week Sì Digi al Talent Week Perché Seating è importante Che prima Mi hai chiesto questo Sì Perché è innovativa Seating è innovativa Fondamentalmente Perché cambia Come alcune cose Sono state fatte Per tanti anni E lo fa Dando maggiore Efficienza Efficacia Efficienza Efficacia Sembra in parole Tra quelli che sono In target Per aiutare i ragazzi Possiamo dire In soldoni Che è L'intermezzo Che vi dà una mano Tra l'azienda Che assume E voi dipendenti Che vi proponete Bravissima Bravissima E se avete Le carte regola In parte O del tutto Per quel lavoro Passerete Allo step Successivo Che è Il colloquio Di persona Però immaginate Che è bello Anche Non investire Tempo Per i lavori Che Per cui siete portati O che desiderate Poi incontrate I recruiter Che sanno già Molto di voi E quindi vi raccontano Bene Del lavoro Dell'azienda C'è un incontro Molto più qualificato E si investe Il tempo Quell'ora Ora e mezza Di colloquio Dal vivo Più il viaggio Per esempio Cioè Però parlando Di qualcosa Che Cioè Io conosco te Tu conosci me Approfondiamo È tempo investito Molto bene Questo qui Certo È come Letteralmente Tutto quello Che serve Praticamente Una persona Quando finisce La scuola O finisce L'università Che si trova lì Perso nel nulla E dice Bene Io ho queste capacità Ho studiato queste cose Vorrei propormi Dell'azienda Ma non so come farlo Ecco Loro si pongono Praticamente Da tramite Per darvi una mano A essere Anche assunti Dalle aziende Per capire Come vi potete Porre al meglio E valutarvi al meglio Sì esatto Io mi inserisco Perché stavo leggendo In chat Solo per dire una cosa Cioè Quando entrate Nella città digitale A parte che Mi aspetto Che tutti diciate Wow che figata Non sono entrata Nella solita cosa In bianco e nero Tra un po' Dove devo cercarmi Gli annunci Quindi vi ringrazio Esatto Perché Vi anticipo Quello che sta dicendo Giulia Adesso ti lascio finire Però Giusto per far capire Ai ragazzi Che il sito Che vedete adesso Di Seaving Verrà totalmente rivoluzionato E vedrete effettivamente Quello che state vedendo Qui sulla schermata Dove sarà molto più facile Andare a cliccare Effettivamente Sulle aziende Che vi interessano Ti lascio Esatto Esatto Esattamente Cioè ci sarà proprio Uno spazio dedicato Per ogni azienda Grazie per il wow No però Vedete che è tutto Molto diverso Dalle classiche Dai classici job board Come li chiamiamo noi Quindi motori di ricerca Dove vai a cercare lavoro Ma soprattutto Voi vi candidate All'interno della città digitale Ma sarete contattati poi Direttamente Dall'azienda cliente Perché ho visto qualcuno Che dice Siamo un'azienda tramite Eccetera Noi siamo Fondamentalmente Un'azienda Che sviluppa un ATS Che è appunto Questo software Di cui parlava prima Alessandro E ci siamo inventati Le fiere digitali Per darvi Questo effetto Wow Ok Quindi Per farvi vedere Delle cose nuove Per svecchiare Un attimino Anche quello Che è tutto Il processo Di candidatura Cliccando dentro Le casette È tutto online Potete vedere Tutte le mappe Questa che vedete Adesso è online Su VVV Poi magari lo scriviamo In chat VVV Sì poi mettiamo Direttamente il link Certo Perfetto Ah è già stato messo Dice Gabri Perfetto Ottimo Potete insomma Registrarvi Vi arriveranno Tutte le informative Anche delle Delle prossime edizioni E nel momento In cui voi vi candidate Il lecciare Il recruiter La persona che fa Selezioni in azienda Vede direttamente Il vostro CV Quindi non è che c'è Diciamo Un passaggio di mezzo Quindi Valutate anche un attimo Questa cosa Quando entrate Nei vari job board Ecco Questa è una Modalità un pochino Diversa Sì è sicuramente Anche più Accattivante Ma non solo Più accattivante E anche più snella Si può dire Perché spesso e volentieri Quando guardi appunto I siti Dove ci sono domande Lavorative È un casino ragazzi Riuscire effettivamente A destreggiarsi In quei siti Non si capisce Tra l'altro Su questo sito Vi invitiamo Ad andarci anche oggi Se vuoi Questo si chiama www.digitaltalentweek.com Come anticipato Da Sara Ti ringrazio Da gennaio Dell'anno prossimo Tutto sarà Nel sito Sivin.com Perché uniremo Tante di queste mappe Tante di queste esperienze E ogni settimana Ci sarà qualcosa di diverso In termini di visibilità Insomma Come dire La principale visibilità È la mappa Delle lavori digitali La mappa Delle lavori Della ristorazione Per esempio O del mondo Delle vendite Però poi Andando a spulciare A navigare Il sito Troverete Che potrete andare A vedere Le vecchie mappe Che hanno comunque Lavori attuali Dove potrete candidarvi Le università partner Le società Di consulenza partner E così via Ci saranno tutte informazioni E metteremo anche questi live Poi ne parliamo Con Sara Questi live Che stiamo facendo Tutto Il prossimo anno Vogliamo farne tanti Vogliamo essere Connessi con la nostra Piattaforma Quindi Andremo avanti e indietro Per questo mondo Che quello di Siving Si candida Per essere Diventare L'anno prossimo Il sito Esperenziale Numero uno Per la ricerca Del lavoro E così Rispondiamo anche Alla domanda Di Diego Più che domanda Lui diceva Ok ma queste Sono cose Sono valutazioni E sono inserimenti Che fanno le grandi aziende Le aziende piccole Non le fanno Adesso Sì Poi in realtà C'è un mix Diciamo che Iniziano ad esserci Aziende Non grandissime Poi Come dire Nel mondo Per esempio Delle software house Cioè dove si sviluppa Software city E così via Spesso le aziende Non sono grandi Sono aziende Da 20-30 persone E così A volte anche Più piccole Se andiamo a vedere Dei mondi come Il mondo assicurativo Bancario Che per qualcuno Sono lavori noiosi Vi assicuro Che stanno cambiando Tantissimo Ho l'abilitazione Da assicuratrice Ho fatto anche Perfetto Come vedi Abbiamo delle aziende Importanti Al riguardo E vi invito Già oggi A fare un giro Queste sono Tutte aziende virtuali Noi le chiamiamo Un po' come Entrare nella nostra azienda Cliccandoci si può Immergere un po' Nel nostro mondo È tutto un'evoluzione Ma è già fantastico Andate su SIVING Così vedrete Che ci siamo Anche noi Che viene raccontato Tutto lo che facciamo Ti porta Ad altri nostri progetti A degli eventi Che abbiamo fatto Con le registrazioni Insomma Questo è Il nostro mondo È immersivo Esperenziale Racconta Utilizziamo Sempre di più I video È qualcosa Di totalmente Diverso Rispetto a quello Che propongono Praticamente Il 99% Dei siti Di ricerca Di lavoro Tra l'altro Quei siti Di ricerca Di lavoro Per parentesi Sono e saranno Sempre più Anche dietro Le nostre Dietro le quinte Perché magari Cerchi su Google Lasci fuori Un sito Famosissimo Perché è Super indicizzato Americano Gigante Trovi il lavoro Ci clicchi E poi ti porta Da noi Quindi noi Noi li utilizziamo Perché È come dire Che Google Non esiste E domani Ne facciamo Uno migliore Sfido chiunque Non ci proviamo Neanche Tra dieci anni Ne parliamo C'è ambizione E ambizione Io chiedo Esatto Parentesi Prima c'era Spirolum Che spero Di aver pronunciato bene Chiedeva Di che lavori Si parla Abbiamo fatto Tanto gli esempi Dei lavori digitali Perché siamo Nel pieno Delle week Che lo riguardano Quindi è molto attuale E ci piace molto Il nostro settore Il mio settore Il nostro settore Però noi ci occupiamo Anche di Tutto il mondo Delle vendite È una Specifica Il mondo La logistica Che non vuol dire Solo Cioè vuol dire Dappertutto Col sedili Poi lavoro Dal trasporto Allo stoccaggio Anche gli ingegneri Che si occupano Di alcuni aspetti E poi Abbiamo per esempio La GDO Che sono il mondo Dei supermercati Retail Sono catene Del food Del fashion E a novembre Ne avremo altre Che sono Sul fashion Si chiamano Fashion talent days Se qualcuno Essere un attimino Dico sempre A dire Bellissimo Bellissimo Così vedi L'ambiente Dove effettivamente Vorresti andare a lavorare Colleghi che lasciano Dei video Ti raccontano Cosa vuol dire Ricoprire quel ruolo Il ruolo che le ricopre O lavorare in team Insieme E poi L'altra cosa È stata Che effettivamente Il lavoro Il rapporto con le persone È sempre stato Molto più friendly Molto più facile Di quanto immaginassi Io giravo il mondo Principalmente A 21-22 anni I miei clienti Partner Fornitori Avevano magari 50 anni E ho trovato Sempre gente Che mi ha messo A mio agio Mi sono divertito Tantissimo Poi è logico Ci sono momenti Di impegno Ma poi Dipende anche Dall'ambizione Più sei ambizioso Più a volte Dei momenti Impegnativi Però insomma La scuola Per me è stata Molto più impegnativa Rispetto al lavoro Certo E io ne approfitto Per chiedere Un ultimo spunto Alla chat Per chiedergli Più che altro Più che quello Che non funziona Sui siti Che cosa vorreste Effettivamente Da un sito Che fa recruitment Cioè C'è qualcosa Che effettivamente Voi desiderereste In un sito Anche per capire meglio Può essere anche Una maggiore comprensione Giusto per darci Magari degli spunti Che possono servire Poi anche a Giulia Alessandro Per migliorare Seaving in generale Perché no Quindi dateci degli spunti Sì assolutamente In mente qualcosa E dico solo una cosa Perché ho visto una domanda Non costa La nostra piattaforma C'è chiaramente Lato candidato È tutto gratuito Ci mancherebbe altro Quindi potete candidarvi A tutte le opportunità Che volete Non ci sono Portano a scaricare O l'app O da desktop Potete scegliere Esatto C'è anche app Seaving Che è quella Io vi ho messo il tag Anche su Instagram Alla loro pagina Instagram Però c'è l'app Infatti li vedrete Che si chiama proprio Seaving app Lo potete fare sia da PC Che da mobile E assolutamente Ragazzi Può essere utile Se state cercando lavoro E perché no In realtà Anche se non state cercando lavoro Ma anche se volete Cambiare lavoro Che spesso e volentieri Viene sottovalutata Come cosa Ma si può sempre migliorare Nella vita Poi io invito sempre Le persone A informarsi su azienda E magari Se un lavoro è interessante Per degli amici Dei conoscenti Fare il copy Dell'URL Perché con l'URL Poi è tutta la landing page Con le spiegazioni del lavoro La nostra è sempre condita Di immagini Video e così via E farla girare Nelle proprie community E gli amici Certo Passaparola è molto potente Noi lo favoriamo E lo favoriremo sempre più Passaparola è importantissimo Che è il principale motivo Per cui siamo qua Tra l'altro a parlarne oggi E tutto il contrario Che Doppiaschie dice Manca un po' di umanità Tutto l'opposto Cioè ti danno addirittura L'opportunità Di poterti presentare A voce Spesso e volentieri In molte aziende Non puoi andare fisicamente A presentarti Qui lo puoi fare Tramite anche un piccolo video Che viene poi effettivamente Mandato all'azienda Quindi più umanità di così Addirittura fai tour Anche guidati All'interno dell'azienda Quindi io direi È l'opposto È sempre il recruiter Che ti sceglie Ovviamente Siving può dare un'anteprima Di quello che sei tu Ma ovviamente È la persona umana Che poi va a seguire Non parliamo di robot Non parliamo di No esatto Cioè loro vi danno una mano A proporvi nel modo migliore Poi lì ragazzi Sta a voi E sta ovviamente Alla persona che assume Però loro vi danno Semplicemente Le armi Per combattere meglio Poi dicevo sempre Dipende sempre dal lavoro Ma è normale che Su un sales La parte del videocolloquio Possa impattare un po' di più Comunque in base alle esperienze Ti chiamano Ti incontrano Se hai il tuo curriculum In target Per esempio Un programmatore Per cui insomma Tra l'altro È anche difficile Trovare i programmatori bravi Se hai Lavori Nell'ambito che serve Con le tecnologie che servono Il videocolloquio Diventa un po' Meno importante Però io come dire Ragazzi Cioè Prendiamole le sfide È anche divertente Cioè Io ogni volta Chiedo Ai miei interlocutori Quando hanno fatto Qualcosa di nuovo Per l'ultima volta Io una settimana Qualche giorno fa Ho giocato a padel Per la prima volta E oggi sono qui Per la prima volta Ecco Quindi È anche divertente Sì Sempre Assolutamente E faremo poi Ragazzi Prossimamente Un approfondimento Su LinkedIn Invece Dove vi spiegheremo Come funziona meglio Questo magico mondo E visto che oggi Abbiamo Principalmente Ci siamo concentrati Sui curriculum E su come presentarsi Capiremo anche meglio Come gestire Magari il vostro profilo Social Per essere Di appeal Alle varie aziende Non sono tecnica Noi due informazioni Volevamo dare Su Instagram E soprattutto L'URL Per lasciare La propria mail E se volete Restare aggiornati Non so se la regia È in grado Di mettere Parla Guarda Parla pure Con Gabri Sì Volentieri Avevamo detto Di mettere La landing Che è la nostra Siving.com Slash Registrati Esatto E quello È per lasciare La propria mail Se volete avere Aggiornamenti Che diciamo Da qui a gennaio Ce ne saranno molti Proprio perché poi da gennaio Io penso Non ce ne sarà più per nessuno A livello di siti Per ricerca del lavoro Beh per come vi siete posti Io sono pienamente d'accordo E spero assolutamente Che sia così E poi torniamo Allora con Sara Se vorrei raccontarti Che ci vediamo a breve Ci vedremo molto spesso Spero insomma Speriamo Esatto Infatti ragazzi Adesso ci vedremo Come vi dicevo Per fare un approfondimento Su Linkedin E poi speriamo E ci sarà un altro ospite Un altro ospite Avremo altri ospiti E speriamo appunto Di fare un percorso Che possa aiutare In generale Anche quelli che sono I ragazzi Della generazione Z Giusto Che sono principalmente Il target A cui è rivolto Tutto ciò Ma perché no Anche millennials Io sono millennials Mi ci butto dentro Quindi Perché no Anche altri Effettivamente Altri candidati Quindi Diciamo che È una cosa Che aiuta Aiuta a tutti Cioè È qualcosa Di informativo Che obiettivamente Può aiutare Tutte le persone Che in questo momento Stanno navigando Nel mondo del lavoro E hanno bisogno Di una mappa Loro vi danno la mappa Perfetto Sì La prossima è il 27 Se posso anche dirlo Il 27 alle 15 27 alle 15 Avremo La nostra seconda live Dove parleremo appunto Di Linkedin E di Altro Anche Se avete delle curiosità Delle altre domande Noi Adesso ragazzi Ho letto Quello che riuscivo A leggere A molti ha risposto Anche Giulia Anche Alessandro Hanno risposto Alle vostre domande Se vi viene in mente Qualcosa di particolare Voi segnatevele Per la prossima volta Che comunque Rispondiamo volentieri Poi potete seguirci Su Instagram E ci scrivete Delle domande Insomma In base a quanti Ci scriverete Noi Insomma Facciamo il possibile Ci aggiungete Ci scrivete E restiamo in contatto Esatto Quindi in caso C'è anche il social Dove potete Direttamente Far domande C'è anche il living Buona settimana Ciao 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 ragazzi A prestissimo Ciao Hai voglia io a parlare Senza la music Allora stavo dicendo Scusate Avevo switchato la scena Ed ero giustamente Mutata Per non fare rientro Nell'altra scena Vi stavo dicendo Che Ero curiosa Di sapere Che cosa ne pensate Cioè più che altro Se vi è piaciuta Questa live Se siete ansiosi Di vedere la prossima Perché Come vi dicevo Anche prima Secondo me Twitch È un mezzo Anche di comunicazione Che non viene Ancora sfruttato Appieno Per quello che Effettivamente È il suo potenziale Quindi Credo sia anche Buono Potervi dare Anche le armi Per chissà Riuscire a migliorare Anche il vostro Stile di vita Perché no Allora Sì ho visto Di Simone Che mi scriveva Ma ragazzi Non potevo giustamente Rispondere Prima Vado Vado subito A vedere Allora Allora Simo ecco Ok Non ho visto nulla Mi è piaciuta molto Dai Mi è fatto piacere Sì 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 No no Ma infatti Mi hanno contattato Loro ZX Ho potuto seguire L'ultima mezz'ora Perché avevo lezioni Ma è stato interessantissimo Poi vi ricaricherò Tutto ragazzi Vi ricarico tutto Su YouTube Quindi no problem Pubblico di YouTube Che sta riguardando Questo VOD Questo video Ci sarà anche Un altro episodio Il 27 Sì 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 sì